La diversità, l'inclusività e la sostenibilità sono state le parole chiave che hanno ispirato questo progetto. Wear Napoli è il city brand della nostra città e nell'ambito di questa iniziativa è stata lanciata una campagna di affissioni a cui ho avuto il piacere di partecipare con il mio progetto fotografico, l'agente di Napoli, Humans of Naples. Queste foto giganti che hanno invaso la città sono un invito ai partenopei a riappropriarsi della propria città. Vedere così tanti partenopei essere riconvolti in questa iniziativa, esponenti della cultura napoletana, studenti, artisti, musicisti, lancia un segnale positivo che racconta dell'amore che i partenopei hanno per la propria città. Il nostro invito è quello di girare per la città, leggere i pensieri e le idee dei partenopei che hanno aderito alla nostra iniziativa e vi invitiamo inoltre a seguire le prossime iniziative del nuovo city brand We Are Napoli e quelle del progetto l'agente di Napoli Humans of Naples.